Salve a tutti amici artisti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi farò una nuova challenge, una challenge che ho fatto già un anno e sei mesi fa, rifacendo lo stesso disegno in tre tempi diversi. Questa volta farò il Sonic, lo farò in 30 minuti, 3 minuti e 30 secondi. Spero di dare il meglio, non vediamoci chi è e partiamo con il video. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.